ciao a tutti ciao a tutti ben ritrovati qui nell'arte di rom insieme a michella ea roberto allora oggi è la giornata rullo di tamburi allora come sapete per me è la giornata più bella perché perché vi leggiamo ci raccontate un sacco di cose ci fate appunto delle richieste e quindi un po è un po come sentirvi più più vicini andiamo bene proprio bene questa giornata a me e roberto ci piace un sacco e tante le richieste che stanno arrivando addirittura ci raccontate ci raccontano anche mamme che non vogliono fare le face painter diciamo di professione eccetera ma che lo fanno con i propri figli eccetera quindi siamo felici di stare vicino a diverse realtà quindi chi lo vuole fare per mestiere chi invece lo fa per divertimento però questo ci fa molto molto piacere brave e bravo bravi e continuate a seguirci sempre oggi come vi dicevo la giornata bonus una giornata bonus però un po particolare perché questo perché io e roberto abbiamo pensato di fare un gioco inverso cioè siamo noi che dedichiamo questa questo appuntamento bonus a uno di voi c'è in che senso nel senso che oggi non andiamo a salutare una richiesta ma andiamo a a prendere un nostro pensiero il nostro una nostra dedica e l'appunto la dedichiamo a una nostra amica questa nostra amica si chiama alessandra perché vi parlo di alessandra e soprattutto perché le regaliamo questo video bonus perché alessandra e insieme a un organizzazione di volontariato e si muove sul territorio africano con esattezza in kenia dove insieme a un'associazione giu aietu spero che ho detto bene iu aietu iu aietu e insieme a questa organizzazione sta realizzando grandi progetti per appunto una parte del territorio kenyota e diciamo che il loro progetto comprende la realizzazione di un comprensorio all'interno di una casa famiglia e addirittura di una scuola quindi noi vogliamo sostenerla proprio tanto 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 e in questo momento abbiamo questo grande mezzo che il nostro video bonus perché ci piace sposare questo questo pensiero nel senso aiutiamoci e ognuno ognuno sa quello che può fare quindi anche noi nel nostro cerchiamo di aiutarla in in tante situazioni e il nostro modo dei nostri modi per aiutarla e farvela conoscere a parte perché è una è una persona deliziosa speciale fantastica divertente ironica e chi più ne ha più ne metta e poi perché appunto porta avanti questo progetto molto molto importante e che noi vogliamo proprio stringere anche anche con voi e allora vi faccio vedere intanto dove la potete trovare lei ha una pagina facebook eccola qua io aieto e vi ricordo che è un'organizzazione di volontariato quindi veramente sono donne insieme a lei chiaramente donne e uomini che che lo fanno proprio con il cuore e e noi veramente vorremmo vorremmo aiutarla tantissimo per questo io vi faccio vedere anche diciamo lì vanno dove potete donare qualsiasi cosa ma fosse anche un euro 5 euro gli regalate magari un pacchetto di sigarette che non comprate o non lo so oggi decido di non fare colazione al bar e gli dedico la mia colazione perché io sono sempre convinta che è bello e fa star bene donare anche poco 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 non c'è bisogno come a volte magari scrivono lo vedete in televisione magari scrivono dona 10 euro dona 50 euro ci sono degli step perché tu devi devi donare liberi fate quello che volete l'importante che fosse anche un euro però lo donate e la garanzia che vi diamo noi dell'arte di romi ma soprattutto io aieto è che va tutto per loro quindi non si intasca niente nessuno quindi detto questo alessandra questo video bonus è proprio per te e per tutta l'associazione con il quale collabori e con tutta tutta l'africa insomma veramente con tutti quelli che hanno fuori grande 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 quindi vogliamo donare questo video bonus è molto bello e a me piace tantissimo ma non perché l'ho fatto io perché mi piace proprio tanto 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 e insomma a questo punto mi arrivo anche a te alessandra spero che ti piaccia spero che piaccia a tutti voi dell'associazione io aieto ma soprattutto io spero che piaccia a tutti voi che ci state guardando cliccando e condividetelo perché più lo condividete questo video e più magari ci saranno persone che regalano un euro 2 euro 3 euro 5 euro quanto vogliono a questa associazione e più stiamo bene più stiamo bene questa donazione come è come un vaccino quindi proprio rimanendo nel tema no donate qualcosa è come donare veramente un vaccino per per persone che magari ne hanno molto più bisogno di noi quindi detto questo vi faccio vedere il bonus di oggi vai e Grazie a tutti. 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 Vi faccio vedere l'Iban dove potete donare quello che volete, già ve l'ho detto, e poi diciamo sia su Instagram che sul sito Facebook ci sono tutti i riferimenti. Quindi potete anche contattarli, farci una chiacchierata, scoprire cosa hanno fatto e cosa hanno in progetto di fare. Insomma, se vi piace questa idea, se vi piace questa idea, se vi piace questa idea sposatela con noi e contattatevi, fateci una chiacchierata. Anzi, vi dirò di più, la nostra amica Alessandra è stata ospite di due live che abbiamo fatto proprio nella giornata di venerdì. quella della settimana scorsa, quella della settimana scorsa e quella della settimana scorsa e quella della settimana scorsa e quella di due settimane fa. Quindi l'andate a cercare sulla nostra playlist di live e c'è la nostra Alessandra. Quindi così la conoscete, lei ha parlato anche un po' di questa fantastica associazione, quindi anche tramite lei, insomma, imparate un po' sia a conoscere lei che a conoscere l'associazione. Detto questo, oggi veramente il video bonus è tutto per Alessandra e la Yuayetu. E allora io vi ringrazio, io e Roberto vi ringraziamo veramente, questa volta il cuore ci sta bene, con un cuore, no, grande così, grande così, immenso. Vi diamo appuntamento a domani, giovedì, per il video tutorial di livello avanzato. Ciao a tutti!